Ma, ve l'aspettavate l'esplosione, Damiano? Convinciamolo noi a chiudere almeno la Lombardia, che è la sua classica, che sanno vincere in pochi come la l'interrui in Giri Lombard. Parole sagge. Damiano è pronto? Sono pronto. Per Radio Corsa. Sì. Dello studio è pronto. Andrade Luca, cosa mi racconti? Bella diretta oggi. No, 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 oggi è stata una diretta molto impegnativa perché l'ospite non era facile, perché è uno che ha vinto poco. E allora quando l'ospite non ha vinto poco, non sai che domande falle. Allora io e Beppe Conti ci siamo inventati tutto un curriculum che in realtà non esiste, giusto? Beppe cosa ci dici? No, è un grande piacere, è un grande piacere averti perché sei un ragazzo che ci ha fatto godere a lungo, dal 2004 a oggi. E poi, una cosa, è un campione. E questo è innegabile. Però è una gran brava persona, Damiano. Noi lo sappiamo perché è vero Beppe. Ma la sua intelligenza è questa, che lui ha capito, adesso che sta a partire, quanto è importante anche curare le pubbliche relazioni. Ecco la sua apertura mentale. Quindi sicuramente nel dopo corse lui sarà protagonista nel lavoro che farà. Grazie ragazzi, troppo troppo sentire. È sempre un piacere. Grazie. Grazie. Grazie.